Insieme a Francesco Moneti, autore di Cortona liberata dagli Aretigne, e a Don Francesco Chiericoni, parroco di Tornia, che firmò quasi tutti i suoi scritti con lo pseudonimo di Maranguelone, la letteratura dialettale cortonese annovera tra le sue figure più significative quella di Don Valentino Berni, il quale dette vita ai primi del Novecento ad un personaggio, Pasquelle della Cermentosa, che sicuramente molti cortonesi hanno sentito nominare chiedendosi se sia effettivamente mai esistito. Si tratta in realtà di un personaggio di fantasia, uscito per l'appunto dalla penna di Monsignor Berni, che dopo essere stato parroco a San Pietrascegliolo e poi al Torreone, fu chiamato a insegnare teologia nel nostro seminario. Morirà a novantenne a Cortona nel 1963. Apprezzato per l'arguzia di certe sue battute e per il fatto che una rima e una soluzione non la negava mai a nessuno, ci ha lasciato versi da cui traspare ironia e una sincera simpatia per le persone più semplici, come il suo Pasquelle, un montanaro, anzi un montagnino come si usava a dire un tempo con una punta di compatimento, che si trova a suo tra i boschi. Il Berni immagina che viva sui poggi della Cerventosa nei pressi di Portole. A questo riguardo molte delle immagini di questo video relative a quei luoghi sono tratte da arezzometeo.com, che si ringrazia per l'autorizzazione concessa a riprodurle. Uomo semplice Pasquelle si rivela sospettoso ed diffidente quando devo scendere in città, perché teme che qualcuno approfitti della sua d'abbenaggine. E così si presenta. Io sempre galanton, sosteto e sono, e sempre lo sirò, che so cristiano, me confesso per Pasqua e pel perdono. Soltanto a digiune ce guardo meno, ma dico le Maria per chi mi è morto e la ricotta e il cureto ogni anno porto. Una delle composizioni del Berni più uscite più note è Pasquelle va a Fiorenza. Pasquelle quando era giovane fa una vincita al lotto e da persona saggia ascolta i consigli di chi suggerisce di mettere i soldi vinti in banca. Ma qui viene fuori anche la sua ingenuità. Sceso a Cortona, appena giunto un petto al tribunale, trovo un tele e gli dico. Ehi, galant'uomo, mi insegnate una banca? E lui quel tele. Le banche, disse, sono drenta al domo. Grazie, se mi aspettate, artò non fretta. Se virà a bere insieme una foglietta, un bicchiere di vino. E via decursa, presto rentro in chiesa, ma c'erano due o tre bizze a scoronere, due o tre vecchiette a pregare. E voi che fete che in arvita chiesa gli disse? Vite via, che c'ho da fare. Armasto sol sotto una banca ficco quel fagutin che me facea si ricco. Quando al mio babo disse quel che ho fatto, me traventò le scarpe purrandello, me disse beccio, sciuco, rospo, matto e quel che gli venia giù di più bello. Può rinamme, come ave ben capito, ma armesse a gambe e tutto rintuntito. Recuperata fortunatamente la vincita, Pasquale decide di godersela e di andare a Firenze. Mica fece per burla, vetti al treno. Quanto si spende, io disse, per vivia? Ma dimme per in due, brutto marreno, rispose il capo della ferruvia. Che vi interessa a voi, ducò da vire? Questa è Billina, o non ve volessi dire? Per buona sorte, me parete onesto, sintì, ve il dico adeggio in tu un orecchio. Vedo a Fiorenza, dunque fate presto. L'esperienza di Pasquale la Fiorenza si conclude con la perdita della giubba, della giacca, dove teneva i soldi della vincita al lotto. Accortosi di averla perduta, qui cadde a terra come chède cuosa, che non puste più ritta, manco al muro. Poro Pasquale della Cermentosa, chi in te compiegne al fegguto ben duro? Credeo che giunto a chiesa in conclusione o per di meglio a rifunir la festa, il babbo marlacasse in tu il groppone qualche forchetta ed ogni ucchina in testa. Ma quando ma rivedde da lonteno, me curse incontro e me stregnette al seno. La mamma piagne, puora cattarina, e il chemme salta su fino alle spalle, l'eseno raglia, canta a nigaglina. Scappono i cioncarigne dalle stalle, beleno i becce e trilla il rosignolo. Torno Pasquale e il prodigo figliolo. Non più a Fiorenza, alla città non più e manco al buttighino a giochèl terno. Tra le miselve, o se sta ben qua su due, distete all'ombra, al fuoco l'air d'inverno. E Monsignor Berni, concordando col suo Pasquale, così conclude questa storia. Qui non se fanno imbrogli e marachelle, qui l'arte del gabè un la fa ioelle, qui l'arte dell'imbroglio non la fa nessuno.